Allora, dedico questa vittoria all'enorme talento supportato dal grande impegno e del grande carattere. Questa vittoria a chi sa vincere, dedichiamo questa vittoria a chi non sapendo vincere non sa manco perdere. Puoi fare pure la panoramica? Io sinceramente come pubblico a casa non ho capito. Mi date un microfono? Mi date un microfono? Allora, io mi sono guardato tutte le puntate perché c'è un scaio e lui ha barato. Nel momento di spinta ha fatto Yulinta. Secondo me, penso che condivideranno anche tutti i componenti della squadra. Io dedico la vittoria a Yulinta. E abbiamo vinto perché avevamo fame. Dedico questa vittoria a voi. Se avessi fatto quel punteggio ridicolo non avremmo mai vinto. Possiamo fare una domanda? Possiamo fare una domanda? Lei singolarmente quanti punti ha fatto? Quelli sufficienti per alzare questa coppa. Non hai risposto? Non hai il coraggio di dire quanti punti tu hai putto mai? Sicuramente più dei tuoi. Non credo proprio. Non credo proprio. Non credo proprio. Non è vero assolutamente. Grazie per la scelta. Secondo me ha fatto molti, ma molti più punti Yulinda. Ma non c'entra questa. Come ha fatto molti, molti più punti Michela. Perché anche Michela è stata la decidice di Michela. Anche Michela ha la coppa. Prendete la vostra coppa. Come ha fatti molti, molti punti anche Alex. Quindi io credo, Maurizio, che tu hai in mano quelle due coppie grazie a una persona. Maurizio, ci! Ci! Alla vittoria! Alla vittoria! Il vero vincitore è Vito, che ha fatto... ... Grazie.